A bu-du-bu-du! Mi ricordo intanto che questo cuoco indiano... Buonasera! Buonasera! Questo cuoco indiano non parla bene l'italiano, ma poi abbiamo una tradutrice che si aiuterà a dire... e la sua assistente. Thank you! So, first of all, let me thank you here for being here. I'm very very happy to be here in Cernia del Marietta. I'm very happy to be here in Cernia del Marietta. I'm very happy to be here in Cernia del Marietta. Siri, you are very famous for the roundabout? Very famous for the roundabout. Very famous for the roundabout. I see what she said. I'm very nice. Thank you. You too, big boobs. Are they real? Are they real? I'm real, I'm real. Thank you? Thank you or no? Ah, of course. Ok. So, before... Before, before to start to give you some advice about how to cook the perfect Indian leader. Prima di cominciare, dammi qualche consiglio su come cucinare il perfetto indiano. Ok. All I want to tell you a few things about India. Voglio... Dirmi qualcosa riguardo... ... Ma cos'è che hai detto? That's it. So India, as you know, is a very very big country. Quindi l'India, come sapete, è uno stato molto grande. Thank you. Beautiful English. So, we have more than 40 states. Quindi abbiamo più di 40 stati. A lot of languages. Molte lingue. Quindi quando parliamo di c'è in indiano, bisogna essere più precisi. Cosa mi hai detto? It's okay. So, it's like, you know, in Italy. Come in Italia. You have cuisine from north of Italy. And cuisine from south of Italy. For instance, from Puglia. I like very much a dish call. I like a dish called... Oh, you can't eat them. Eat them. Eat them. Eat them from north of Italy. And from the north of Italy. From Vennet to. You have rice, music, polenta, osei. Eat them. Eat them, polenta, osei. So, thank you. Thank you very much. What she said. It's like... Andate. Ma la pat�. Anyway, so... ...It's not about only the raw material. ...In China? Abbiamo fatto due volte! Un'altra volta! Ma cos'è che gli hai detto? Un'altra volta! Allora, non si tratta solo di materia prima E' quello che avete dentro Il vostro sentimento La spiritualità Quindi ricordate sempre Quello che avete dentro Quindi adesso vi presenterò tre piatti Questo è l'appertizzer L'italiano? Antipasto E' un'altra volta! E' un'altra volta! E' un'altra volta! E' un'altra volta! Non si tratta solo di potere E' un'altra volta! E' un'altra volta! E' un'altra volta! E' un'altra volta! And then! Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. What do you have inside? So, keep it very 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 concentrate. In this case you have to be very very concentrate. But, now you have to be very very concentrate. Silence please. Thank you very much. Thank you very much. I also want to be inside of me. I also want to be inside of me. Anyway, I want to be in deeper news. So, let's see that after this later. Anyway, so now to close the lesson. We are going to be... We are going to be... In this case... Silenzio. Because it's a very very important dessert in India. In India. In India. So, because in India the dessert is a very very... It's a thing that really... You know... We like very much because you are... With a family... With a faithful... So, usually when we prepare the dessert... It's very funny. Si, sta insieme. So, we prepare the dessert... Lo prepariamo in famiglia, tutti insieme. No, mo' lo detto. No. So, we prepare the dessert... In a very dark room. Ero un bullo. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti.